Sì, allora appunto ci ha raggiunti in trasmissione il nostro amico Luca Rossetti di Cuore Giallo Rosso Ciao Luca, ciao Luca Ciao ragazzi, bentrovati, un saluto a tutti Bentrovato Luca, allora cominciamo subito a parlare di Europa League quindi cominciamo a parlare della brutta sconfitta contro il Lione per 4 a 2 e ti voglio chiedere un tuo parere prima generale su questa partita un breve riassunto di questa partita per te C'è poco da dire, diciamo che la Roma ha fatto un grandissimo primo tempo in cui ha dominato in lungo e in largo la partita e ha chiuso meritatamente in vantaggio e poi nel secondo tempo a differenza di altre partite giocate negli ultimi mesi è veramente scoppiata, è crollata psicologicamente e ha preso 3 gol in 45 minuti compromettendo forse la qualificazione non lo so, questo poi lo sapremo giovedì però sicuramente complicandosi abbastanza la vita a differenza delle partite per esempio con la Lazio dove avevamo perso perché l'avversario era stato superiore dal punto di vista soprattutto tattico e della partita con il Napoli dove secondo me il Napoli non era stato poi così trascendentale però comunque qualcosina in più aveva fatto e poi la Roma aveva avuto una grande reazione nel finale io con Lione ho visto veramente un crollo dal punto di vista fisico e questo è l'aspetto che probabilmente ha sorpreso almeno me perché poi in tanti parlavano di una Roma scoppiata, di una Roma in calo fisicamente io non avevo avuto questa sensazione nelle altre partite invece il giovedì scorso l'ho avuta anch'io Sì, questa Roma scoppiata, questa Roma evidentemente con la rosa corta questo argomento appunto che aveva tenuto Banqua a dicembre e gennaio torna a farsi valere agli effetti è così, non credi? Ma diciamo sì, forse rosa un po' corta anche il fatto poi che hanno giocato sempre gli stensi però secondo me c'è stata poi anche una gestione sbagliata dei giocatori in alcuni frangenti vi faccio un esempio, io penso ad esempio alla partita vinta per 4-1 con il Torino dove al 65esimo stavamo vincendo 3-0 e nonostante questo per esempio Naian Golan, Strootman e Diego sono rimasti in campo 90 minuti lì forse qualche cosa di diverso poteva essere fatto poi sicuramente sì, ci sono anche giocatori che magari sono stanchi perché hanno giocato praticamente sempre mi riferisco oltre ai tre citati quindi in particolare poi Naian Golan e Diego ma anche per esempio a Fazio, a Manolassa non a caso Fazio e Manolassa non sono stati poi perfetti nelle ultime apparizioni quindi forse qualche cosa in più andava fatto nel mercato di gennaio però insomma domenica a Palermo c'è stato un turnover abbastanza ampio quindi penso che la squadra almeno per giovedì abbia un pochino ricaricato le pile però adesso serve un altro sforzo giovedì e uno domenica poi contro il Sassuolo e poi ci sarà la sosta che ci permetterà di prepararci e speriamo al meglio per il rush finale Senti, io salto direttamente la partita contro il Lione e poi ti chiederò anche del Palermo però quindi questa partita di ritorno, come te l'aspetti? Viso aperto e più gol facciamo meglio è? Oppure puntiamo al 2-0? Cioè Spalletti come interpreterà questa partita? Io ho una Roma che innanzitutto si difenda perché Lione ci ha fatto vedere che in ripartenza sa far male che sa far paura e non dimentichiamo che ci ha fatto 4 gol quindi io penso che innanzitutto la prima cosa è non prenderle anche perché poi la Roma le qualità per fare almeno un paio di gol ce le ha, come poi aggiungo io ha anche i valori tecnici assolutamente per ribaltare il risultato di 4-2 però cerchiamo innanzitutto di chiudere il primo tempo senza prendere gol perché già quello sarebbe importante poi se ne prendiamo uno, però deve essere massimo uno la Roma tre gol può anche farli diciamo che se la Roma dovesse passare con una vittoria per due gol di scarto io penso che sarebbe più facile un 3-1 che non un 2-0 sì, poi io sono convinto di questo secondo me il 3-1 è più fattibile visto anche loro come giocano perché loro, tu dicevi molto in ripartenza sì, è vero, però non si infilano quasi mai in area cioè fanno quasi tutti i tiri da fuori area o da appena dentro l'area sono molto bravi a tirare da fuori quindi è difficile poi bloccare tutti i tiri che provengono appunto da ogni parte dell'area diciamo che almeno loro però ci tirano almeno loro però ci tirano questo va detto perché poi noi arriviamo tante volte in situazioni in cui possiamo tirare da fuori e non lo facciamo anche questo secondo me è un'arma che dovremo cercare di sfruttare la Roma dovrà cercare anche di arrivare qualche volta al limite dell'area e di non cercare per forza di arrivare col pallone in porta quando c'è lo spazio devi tirare e Lione purtroppo te l'ha dimostrato sì, è vero anche che dipende quali giocatori hai perché loro hanno dei giocatori che in questo sono strepitosi noi un po' meno che stanno tirare da fuori area con quella precisione un po' meno questo anche è rilevante immagino quindi Lacassette, Valbuena, Fekir tutti i piedi abbastanza delicati Nengolano quando ci provava i primi tempi quando poi le buttava tutte fuori insomma quelle azioni perse così si sono fatte sentire io spero che Giacomo comunque riprenda a tirare da fuori e anche Salah perché Salah ha un ottimo tiragiro che sappiamo ha fatto più volte sorridere questa Roma e le altre squadre in cui è stato quindi su questo non sono d'accordo con te e ti chiedo se la formazione che sembrerebbe essere schierata quindi con la difesa 4 ti piace? più che mi piace c'è una cosa obbligatoria perché Bruno Perez si è fatto male e difficilmente recupererà non c'è Florenzi non vedo molto Rudiger fare l'esterno di centrocampo l'unica soluzione potrebbe essere in alternativa tenere la difesa 3 Rudiger, Fazio, Manolas e adattare a destra Emerson Palmieri che potrebbe anche farlo perché insomma ha giocato esterno, adattato mi sembra nelle due partite con il Porto però è qui preferirei una squadra che non si naturi troppo quindi va bene la difesa 4 Rudiger, Fazio, Manolas e poi da vedere se Palmieri o Juan Jesus perché se giocasse con Juan Jesus poi sarebbe la stessa difesa che ha giocato a Milano con l'Inter e eventualmente Emerson Palmieri ala oppure Emerson Palmieri terzino e del Sharawi ala quindi le due soluzioni sono queste per il resto la formazione credo che sia praticamente fatta quindi poi De Rossi e Strotman in mezzo al campo Salah e Nainggolan sicuri del posto in avanti così come Dzeko diciamo che è sicuro, credo che giocherà Emerson Palmieri bisognerà vedere se l'altro esterno di ministra sarà o Juan Jesus o il Sharawi a seconda poi di dove Palmieri verrà messo però credo che sia la formazione migliore per giocare questa partita poi ripeto Matteo come ho detto anche prima la Roma, i valori tecnici per passare il turno ce li ha è una questione soprattutto di atteggiamento, di testa e credo poi anche fisica a questo punto quindi se la Roma ha recuperato bene le energie dopo la partita di Palermo e molti giocatori secondo me le energie le hanno almeno in parte recuperate la Roma potrà anche farcela è una missione difficile ma non impossibile senti Luca abbiamo visto che insomma hai scritto alcune critiche a Spalletti su cui io e Matteo non siamo molto d'accordo perché insomma secondo te non è l'allenatore giusto per vincere? perché è un allenatore che ha troppi limiti è un allenatore che non sa curare chissà come la fase difensiva io credo che quest'anno sia uno specchietto per all'Odole ma è un'eccezione che la Roma abbia preso pochi gol perché le squadre di Spalletti spesso ne prendono tanti o comunque chiudono raramente le partite senza prendere gol è un allenatore che spesso in partite importanti e decisive inventa mosse strampalate o fa cambi quantomeno discutibili per cui per me è un allenatore che può far giocare bene una squadra che tatticamente è anche bravo però io credo che per vincere servano allenatori di altro tipo senza contare che io lo ritengo troppo uno yes man cioè un allenatore che si fa andare bene in sostanza qualsiasi cosa poi decida la società soprattutto in sede di mercato non a caso insomma avrete anche letto io preferisco un allenatore meno bravo dal punto di vista tattico come potrebbe essere un Allegri o un Mancini con cui però so che posso avere l'ambizione di vincere perché sono allenatori che quando vengono vanno in una squadra ti dicono sì io vengo però mi devi prendere i giocatori che dico io cioè se viene uno fra Allegri e Mancini di cui ti è parlato cioè se Mancini o Allegri sa che deve allenare Gerson Vermeilen che abbiamo visto quest'anno o Pares io credo che non vengono Spalletti se ti fa andare bene cerca di dar fuori il meglio da questi giocatori non sempre ci riesce non è colpa tua di questo però insomma io vorrei un allenatore che viene e che mi fa prendere i campioni sì però scusami cioè su Mancini Mancini è uno che a parte l'ultima esperienza con l'Inter ma soprattutto al Manchester City ha potuto chiedere chi e come voleva e ci ha messo anni per vincere il campionato quindi voglio dire ora prendere Mancini che oltretutto neanche ti fa giocare bene la squadra boh io sono un vinto che contro Spalletti e praticamente contro ogni contro ogni mister della Roma che si è succeduto da capello in poi ci sia questa cosa insomma di prendersi ogni volta che sbaglia perché Spalletti è uno che ha rimediato in difesa quest'anno se le ha inventate le cose se le ha inventate perché non c'aveva materiale ha plasmato una squadra e ci ha fatto vincere ha sopperito all'assenza di Salah insomma è un giocatore è un mister che secondo me è stato anche molto umile a mettersi in discussione poi all'atto pratico e che è stato bravo anche a riformulare questa squadra quando ha fatto gli errori come contro il Lione che ha fatto i cambi troppo tardi lo ha ammesso anche che secondo me è una roba totalmente marginale perché il problema secondo me era chiaramente un altro non penso che nessun altro allenatore prendibile sul mercato sia meglio di Spalletti cioè fatti salvi ancelotti che non vedo mai no 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 ma il discorso è semplice Matteo devi vedere se vuoi un allenatore che ti fa giocare bene o che ti può far vincere cioè a me io so che con Mancini non ti fa vincere cioè Mancini non ti fa vincere cioè ma non lo so al Manchester City c'aveva Campioni che uno vale quanto tutta la nostra rosa cioè ho capito però voglio dire c'è un allenatore che comunque se viene qua ti impone con la società e se no se la società non gli prende il giocatore che dice lui non viene cioè io preferisco un allenatore che faccia così perché almeno vuol dire che ha un'ambizione che non si accontenta è una questione di priorità è una questione di ambizioni se non interessa giocare bene e arrivare al massimo secondi o se si tratta di vincere accontentarci della Coppa Italia o della Supercoppa Spalletti va benissimo se vogliamo vincere il campionato secondo me no scusa però la società ha chiaramente una politica per quanto riguarda il mercato c'ha una politica di pregio di bilancio non è che possiamo far venire qua chissà chi a chiedere che ne so Iaia Tureo David Silva o Sanchez cioè secondo me invece Spalletti si adatta molto bene con con quello che ha e lui ha avanzato delle pretese secondo me con la regola del nuovo DS che sia monchi o meno sarà anche sarà anche meglio e secondo me semplicemente doveva doveva farsi sentire di più di quanto non abbia già fatto per quanto riguarda la sessione di gennaio questo poteva fare però dire che è un allenatore che si accontenta non è così perché gli allenatori quegli altri che pretendono i giocatori sono allenatori che a Roma non potrebbero venire perché la società ha un'altra politica e infatti se noi prendiamo la proprietà americana da quando si è insediata fino ad oggi il bilancio sta a meno 3 milioni che voglio dire è quasi un pareggio di bilancio praticamente beh sapevo molto di meno in realtà di 3 però non lo so poi io di queste cose non è che ci capisca quindi io non mi permetto di giudicare i bilanci della della squadra però da quello che ho letto siamo un bel po' sotto rispetto a 3 a 3 milioni comunque voglio dire poi ognuno chiaramente ha la sua idea io rispetto chi non parlo di voi ovviamente però io rispetto chi ritiene in sostanza Spalletti il miglior allenatore esistente al mondo io credo che non lo so a me piacciono allenatori di altro tipo per vincere per giocare bene ok va bene va bene Spalletti tranne quando fa troppo il fenomeno vedi Vermaelen a Genova vedi Gerson a Torino con la Juventus non lo so io vorrei io vorrei di più se si raccontenta va bene Spalletti ma pure ma pure su questo per quanto riguarda Gerson a Torino sono d'accordo con te ma Vermaelen a Genova no? cioè o questi cambi li deve fare e quindi deve mettere i giocatori con le squadre insomma di media classifica o non li o non li deve fare perché ovvio che quando li fai poi rischi cioè è per questo che non li ha fatti tante volte Paredes ha dimostrato che Spalletti non può dargli più di tanto fiducia l'ha dimostrato Paredes